Le TV Smart Viera di Panasonic sono davvero ricche di innovazione. La loro tecnologia garantisce immagini di qualità estrema. La potenza della retroilluminazione migliora il contrasto tra le alle luminose e quelle buie dell'immagine e migliora la resa delle immagini in movimento. Il modello TXL47E5 ha un display LCD a LED da 47 pollici che si estende per 1107 mm in larghezza e 666 mm in altezza. Lo spessore è invece di soli 40 mm. Sulla parte posteriore troviamo il comparto dei collegamenti esterni. Abbiamo innanzitutto un comodo tastierino per scorrere le varie funzioni base del televisore. Un ingresso per SD card. Tra ingressi di tipo USB 2.0, quattro ingressi di tipo HDMI per il collegamento dei dispositivi, un jack per le cuffie audio, un ingresso component video, un ingresso RGB video, un ingresso VGA per il collegamento con un PC, l'uscita audio digitale, l'ingresso per l'antenna TV ed infine la porta di collegamento Ethernet. I televisori Smart Viera di Panasonic offrono prestazioni sorprendenti. I fotogrammi sono stati incrementati da 50 a 100 al secondo. Questo unito al controllo della retroilluminazione riduce l'effetto after image e produce movimenti nitidi e veloci senza sfocature, perfetti per le rapide immagini di sport ed azione. Tramite il telecomando incluso nella confezione sarà possibile accedere a Viera Connect per usufruire di video, musica, sport, giochi ed altre funzionalità. Infatti i servizi internet cloud based consentono di collegare degli apparecchi esterni per servizi interattivi, nonché di effettuare acquisti online direttamente dal tuo TV Viera. I TV Viera sono compatibili con lo standard DLNA che rende semplicissima la connessione con la rete domestica. I contenuti possono essere condivisi su più dispositivi aumentando il numero degli apparecchi connessi e i formati di riproduzione. Panasonic ci sorprende con i suoi televisori Viera, dispositivi all'avanguardia adatti ad un pubblico sempre più esigente.